Si è sfiorata la tragedia questa mattina all'Istituto Professionale Alberghiero De Cecco di Pescara, dove intorno alle 10.30 è crollata una parte d'intonaco dal solaio all'interno di una classe dove gli studenti stavano seguendo la lezione. Tre alunni sono rimasti leggermente feriti, trasportati poi in ospedale. La scuola, subito dopo l'allarme, è stata immediatamente evacuata. Il preside dell'alberghiero di Viale dei Marsi, Andrea Buzzelli, si è recato in ospedale per sincerarsi subito delle condizioni degli studenti feriti. Nell'edificio sono poi iniziati i rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici provinciali sotto il coordinamento dei carabinieri del comando provinciale che stanno lavorando per ricostruire l'accaduto e capire il perché tutto questo sia potuto succedere. E' crollato un pezzo di intonaco, di soffitto in una classe, ha leggermente colpito un paio di ragazzini che sono prontamente partiti per il pronto soccorso, per fortuna niente di grave, però sicuramente per precauzione li abbiamo dirottati verso il pronto soccorso. Purtroppo questa è una scuola con migliaia di alunni, probabilmente non ha la capacità di recettiva. Noi ogni giorno rischiamo sicuramente la nostra sicurezza. Speriamo che la cosa si possa risolvere la più breve possibile perché temo che non sia un caso isolato, possa essere un caso isolato. Verso le 10.30 abbiamo sentito squillare la triplice campanella, quindi l'evacuazione immediata ci è stata, i ragazzi sono stati subito raccolti nei punti di ritrovo, subito evacuati, fatti uscire e tornare a casa, aspettiamo notizie, per il momento le attività sono bloccate, controlleremo sul sito, eventuale rientro alle attività didattiche. Per fortuna non abbiamo percepito subito la gravità della cosa, anzi inizialmente pensavamo un'ulteriore prova di evacuazione che avevamo appena fatto. Comunque l'importante è che non è successo niente di grave, che si possa risolvere una volta per tutta questa problematicità che abbiamo in questa scuola dove migliaia di alunni e centinaia di dipendenti che ogni giorno purtroppo devono combattere questa difficoltà. Leonardo siamo qui davanti alla scuola, che cosa è successo questa mattina? Niente, durante le lezioni alla terza ora è scattato l'allarme, è un ingendio, siamo uscisi dalle scale, abbiamo visto, abbiamo saputo da vari professori, da Bidelli che in bocche parola era caduto un pezzo di soffitto durante una lezione in testa a due ragazzi. Quale aula? La prima a Q, era, se non mi sbaglio, sì. Suonato l'allarme e siete scappati tutti fuori? Sì, sì, siamo scappati tutti fuori, siamo uscisi dalle scale antigendio.